Aumento dei tamponi molecolali quotidiani per arrivare ad almeno 20.000, messa a disposizione di almeno 25.000 tamponi antigenici rapidi al giorno. Rafforzamento delle tre centrali di tracciamento. Sono queste le linee d'azione individuate dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, per fronteggiare l'ulteriore impennata di casi di Covid in Toscana. L'aumento dei casi a causa della variante Omicron è stato al centro di una riunione presieduta da Gianni, cui hanno partecipato l'assessore alla Sanità Simone Bezzini, il direttore di Sanità, Welfare e Coesione Sociale Federico Gelli, il direttore di Estere e i direttori delle Asle Territoriali e Ospedaliere. Sono tre le linee di intervento che abbiamo definito, spiega Gianni. Innanzitutto abbiamo stabilito di aumentare la capacità di processamento dei tamponi molecolari da parte dei laboratori pubblici per passare in pochi giorni dagli attuali 10.000 ad almeno 20.000 tamponi al giorno, in modo da rispondere all'incremento vertiginoso delle richieste. In parallelo abbiamo deciso di fornire un adeguato rifornimento di tamponi antigenici rapidi. Estar metterà a disposizione da oggi 530.000 tamponi di questo tipo. Complessivamente da oggi al 14 gennaio saranno disponibili ogni giorno circa 25.000 tamponi rapidi in più. E sempre per far fronte a una situazione numericamente sempre più impegnativa, sottolinea il Presidente, abbiamo pensato a un coinvolgimento diretto da parte dei cittadini nella procedura di tracciamento, che assume un valore etico rilevante per la nostra comunità. Una volta verificata la positività e posto in isolamento, il cittadino potrà, attraverso un link che sarà comunicato, indicare direttamente i contatti stretti. È un sistema di autoregolazione che metteremo a punto nei prossimi giorni, come sostegno ulteriore all'enorme lavoro di tracciamento.